Impianti per il trattamento delle acque reflui e sequestrati, 5 le persone indagate. L'inchiesta che ha portato ieri pomeriggio i militari della Capitaneria di Porto a porre i sigilli sta valutando le responsabilità in merito ai danni ambientali accertati originati dalla raffineria di Milazzo. A vario titolo le ipotesi di reato per i dirigenti dell'azienda che ha in gestione gli impianti sono di disastro ambientale colposo, smaltimento illecito di rifiuti, effettuazione di scarichi industriali senza autorizzazione, violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale concernente ai controlli automatici e violazione dell'obbligo di conservazione dei dati. L'inchiesta trae origine da segnalazioni di pescatori e privati cittadini che riferirono alla Capitaneria di Porto la presenza di chiazze sospette nel mare di Milazzo. Era il 22 novembre 2011 nelle ore caratterizzate dalla violenta alluvione che colpì la zona tirrenica della provincia di Messina. Le sostanze inquinanti di origine idrocarburica finirono in mare secondo le indagini della procura di Barcellona Pozzo di Gotto a causa del cattivo funzionamento degli impianti della raffineria che non avrebbe permesso lo stoccaggio delle acque reflue, il cui livello era cresciuto a causa delle forti piogge all'interno di apposite vasche. Durante l'ondata di maltempo i liquidi si riversarono sulle strade di servizio dell'impianto petrolchimico, poi a seguito dell'apertura di un varco vennero fatti tracimare in mare generando gravi danni ambientali e l'emergenza meteo di quelle ore, secondo l'accusa, non fornirebbe alcuna giustificazione ottenuante perché gli impianti della raffineria sarebbero risultati non conformi ai progetti a suo tempo predisposti e non in linea con le prescrizioni dell'AIA. Insomma, l'impianto doveva essere in condizioni di fronteggiare l'emergenza, ma così non è stato. Adesso, in attesa che vengano accertate le responsabilità, gli impianti dovranno essere adeguati. Il sequestro intanto non interrompe le attività produttive della raffineria al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.